Bentornati ragazzi a un nuovo video di Dreamer Come vedete siamo presi a lavorare per voi Torneremo a settembre Adesso stiamo un po' montando i video che abbiamo fatto quest'estate Tra pochi giorni dopo la pubblicazione di questo video Caricheremo sempre sul canale l'anteprima della costruzione del barbecue elettrico Abbiamo costruito un barbecue elettrico Quindi che va a corrente senza carbonella E quindi niente ragazzi Per questo video è tutto Ci vediamo a settembre Torniamo a settembre con nuovissimi video Una nuova programmazione Ci saranno delle novità E quindi niente Ciao a tutti Ciao